Cagliari-Roma 3-4 al momento, 6 minuti di recupero, grande entusiasmo in questo momento, partita al Cardiopalma, attacca il Cagliari Partita di merda del Cagliari che potrebbe essere salvata con questi 6 minuti di recupero, tra l'altro è entrato anche il ragazzo, un attaccante al posto di Rogo Giallo per Paolo Pestavecau, è giusto, è giusto, un altro giocatore a terra della Roma adesso Vergia di tempo continuo e si continuerà ovviamente Non si è giocato praticamente questo minuto, questo primo minuto di recupero Partita emozionante per i tifosi neutrali, un po' meno per i tifosi del Cagliari Però un rigore, sbagliato e poi salvato con un colpo in testa di Joao, 3-4 Che ha riacceso un po' gli animi Condizione per la Roma intanto Ha giocato davvero male il Cagliari nel primo tempo, proprio schifo, schifo, schifissimo Pellegrini per favore, mettetoli in quarantena perché fa proprio cagare Paloschi, idene Occhio, riscatto, oddio Paul Lopez Dai Mamma mia che cazzo stava succedendo con Paul Lopez Paul Lopez il nuovo Olsen, che tra l'altro Olsen sta giocando oggi Dai, dai Ma in grande prima Dai Oh, tira, tira Nooo Anche un coglione però Dai, rimessa per il Cagliari Dai, dai, dai Non era fuori gioco il punto Gli ha dato fuori gioco Dai, 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 dai Un punto sempre meglio di zero Maran, se non pareggio a questa Secondo me Deve essere mandato a casa, assolutamente Fallo Punizione per il Cagliari, se non sbaglio Poi, ripeto, Paloschi Stavo dicendo Paloschi, Pellegrini Hanno fatto proprio cagare Cagare Pellegrini doveva uscire Già non è venuta al primo tempo Però L'ha fatto restare meglio Sicuramente Pellegrini in questo secondo tempo Rispetto al primo Dai, tutti su, tutti su Batte Olsen, tutti su, è giusto No, no Tutti su Però sta per un tempo Rilancio di Olsen Cercare Pellegrini Palla ancora per il Cagliari Sei un coglione Dai Fallo Anche fallo Appena detto Appena detto Detto o fatto Pellegrini Ha fatto un altro error Come quelli che ha fatto nel primo tempo Si vede la mancanza di Nandez Comunque In queste ultime partite Per quanto riguarda il centrocampo Mancava sempre Quel tassello Con Napoli Nengolani Con la Roma Nandez Eccetera Eccetera Dai Non perdere tempo Olsen Dai E anche Che si è messo in mezzo Pellegrini Rimessa per il Cagliari Giallo Per tutti e due Chi è? Sant'On E' il fenomeno E' il fenomeno Fenomeno che si permette anche di rompere le palle Almeno altri due minuti Altri due minutini Cazzo Dai però Mi sa che era uscita Non ce la fa Pellegrini Rinchiudetelo in quarantena Basta Mi hanno rotto le palle Mi hanno rinchiudetelo Porca miseria Mi hanno rotto Veramente le palle Mi hanno rotto Stai scherzando Beh io Vi avviso Se perde anche questa Maran a casa Almeno dovrebbe andare a casa Poi non so se Giulini Ha la testa altrove Magari Però Maran scandaloso Tutto rispetto Ma Sì sei minuti Sono già passati Manca Manca un cazzo Manca un cazzo Perché è finita 3 a 4 Maran a casa Maran a casa Tutti se ne stanno andando Maran a casa Scandaloso Scandaloso